Quest'anno i concerti Xan Italia saranno in Piazza del Popolo, saranno ad ingresso gratuito per la cittadinanza e per i turisti e saranno i primi due lunedì di luglio. Il 4 luglio ci sarà un'artista internazionale di grandissimo livello, Belinda Davids, che è di fatto una delle cover più accreditate al mondo di Whitney Houston. Quindi sarà una serata in cui l'orchestra, la parte sinfonica, si unirà alla parte moderna per un'orchestra symphony pop e eseguiremo i grandi successi portati alla ribalta da The Voice Whitney Houston. La direzione sarà di Roberto Molinelli. Secondo appuntamento, l'11 luglio, sempre di lunedì, sarà un progetto di innovazione. Cercheremo di raccontare un'arte visiva attraverso la musica. Si tratta della street art, il titolo è Street Art Symphony, alla quale aggiungeremo delle musiche del repertorio classico che abbiamo trovato e che crediamo siano affini o almeno abbiano un collegamento con la street art. Il racconto sarà della storica d'arte Antonella Michaletti, la direzione di Daniele Rossi e qui l'organico sarà il grande organico sinfonico. Tutto questo è possibile grazie anche a dieci anni consecutivi di contribuzione da parte di Franco Signoretti di San Italia che è un numero veramente importante e che ovviamente dà molta possibilità e più facilità di programmazione a un'orchestra che contribuisce da dieci anni ad aggiungere una stagione musicale estiva alla programmazione culturale della città. In particolar modo quest'anno due eventi gratuiti in Piazza del Popolo che marcheranno due lunedì importanti, il 4 e l'11 di luglio prossimi e quindi saranno anche l'occasione per ritrovarsi in musica e anche contribuire con questo sforzo alla costruzione di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. L'iniziativa che mi dà e ci dà grande soddisfazione e quindi sia io che la mia famiglia siamo contentissimi di questi eventi e quindi continueremo sicuramente per tanti anni. Credo che questi concerti così organizzati siano più facilmente fruibili un po' da tutto il pubblico perché mentre si fa musica e soprattutto della bella musica ad alto livello si fanno degli approfondimenti anche di carattere culturale che possono affrontare argomenti vari e sicuramente nei prossimi anni avremo dei programmi che potranno essere sempre innovativi ed interessanti.